E gli auguri per questa buona Pasqua 2021 non potevo che farteli come tradizione dopo una delle mie corse, uno dei miei allenamenti oggi corsetta molto leggera senza nessuna mira di allenamento semplicemente per godermi l'aria fresca della primavera questo bel cielo azzurro inaspettato visto che le previsioni in un primo momento davano pioggia quindi stare un po' all'aria aperta, stare un po' con me stesso una corsetta per sgranchire, per ossigenarmi in preparazione anche, diciamocelo, nel fatto che oggi mangeremo tutti un po' più del solito mangeremo tutti cose un po' diverse dal solito e va assolutamente bene fin tanto che quando mangiamo tanto e quando mangiamo cose un po' diciamo così un po' più elaborate rimane un momento di gioia con le persone che amiamo e rimane soprattutto qualcosa che è un momento straordinario cioè non ordinario, non fa parte delle nostre abitudini Pasqua 2021 momento molto difficile intanto il sole alle mie spalle come puoi vedere il mio auguro per te è quello di trovare nell'uovo di Pasqua la sorpresa che desideri ricordandoti che nella vita, che nell'uovo di Pasqua della vita è molto probabile che troveremo sorprese per cui abbiamo lavorato difficilmente avremo sorprese meravigliose così, piovute dal cielo quindi il mio augurio è sì di trovare la sorpresa che desideri ma ancora di più ti auguro di decidere cosa vuoi in quel uovo di decidere chi vuoi diventare per trovare ciò che desideri in quell'uovo e soprattutto ti auguro di decidere di agire nella direzione che ti porterà a trovare la sorpresa che desideri che a quel punto non sarà una sorpresa ma sarà il frutto del tuo lavoro il frutto delle tue scelte il frutto delle decisioni difficili e il frutto delle azioni che avrai deciso di compiere buona Pasqua e buon riposo in attesa di ricominciare la grande questo aprile 2021 ciao ciao